benvenuti in questo nuovo video ho piazzato la camera lì sulla scrivania non mi vado a chittare molto questa giornata un po vuota e mi stavo riguardando un po di cosucce mie cui i direct di instagram dove mi avete a suo tempo perché ormai è passata qualche settimana tartassato su questo concept del 12s ultra chiedendomi cosa ne pensassi e quant'altro e purtroppo ho preso da un po di cose neanche vi ho risposto non ci ho sviluppato un pensiero sopra ma adesso qui con voi provo a ragionarci un po su dunque di per sé quello che ci ha mostrato show me chiaramente una figata pazzesca e siamo d'accordo bellissimo un'esagerazione quindi siamo anche d'accordo nel dire che forse è troppo che diventa quasi ridicolo no come come oggetto io onestamente lo vedo come il futuro molto concreto e molto possibile non in termini di questa specifica accoppiata perché loro adesso con leica hanno appena lanciato una partnership e quindi ti propongono qui in questo appunto concept una accoppiata che non è proporzionata cioè c'è il corpo macchina da 1300 euro il 12s ultra 1500 1500 tra un paio d'anni arrivano a costare in maniera definitiva i veri top di gamma ok con un'ottica che però ti va a costare quanto qui 4000 euro mi sembra costi questa questa è la leica serie m credo avevo letto leica serie m che sta sui se 4 no se 4500 per dirne una mi sembra che alcune costino pure di più quindi è un accoppiata ovviamente che lascia il tempo che trova ma la direzione mi sembra molto molto concreta cioè è ovvio che si andrà verso un sistema di questo tipo dove il blocco delle fotocamere adesso prendo 12s ultra che già di per sé c'è un blocco che è un po al limite no della grandezza della portabilità non potrà più evolversi in termini di grandezza perché sennò veramente si va a perdere il concetto poi di telefono e dovrà quindi questa impossibilità essere sopperita da un hardware esterno ben pensato però non come quelli che ci sono oggi che sono un po all'estremo opposto di quello che ci mostra qui showmino qui abbiamo un sistema che è troppo premium rispetto a quello che sono e saranno i top di gamma fra qualche anno oggi abbiamo le stesse misere ormai tra virgolette lenti a clip che si montano sopra la lente stessa quindi tutta una roba un po da orticaria che se 3-4 anni fa potevano essere carine e avere un senso anche rapportate all'hardware del telefono oggi non hanno più senso chi ci mette una lente da 100 euro davanti a un iphone da 1600 euro cioè mo con tutto il bene che voglio a moment bis grip sound mark questi brand che fanno che hanno creduto per primi nell'approccio un po più complesso al mondo della smartphone photography e che comunque in alcune casistiche hanno ancora senso ma nel complesso è una roba che è rimasta indietro rispetto a come si è evoluto l'hardware sui telefoni oggi questo genere di cose qua parte da più lo vedo più è da bava la bocca ok lo vorrei proprio perché secondo me si riesce a mantenere il rapporto tra portabilità perché tu questo sempre ti ritrovi con una funzionalità che comunque c'è perché qui hanno lasciato se non erro due ottiche due ottiche sono rimaste che saranno sì perché c'era scritto due sensori da un pollice quindi ti ritrovi il sensore comunque molto buono top level di uno di cs ultra la super grande angolare di sicuro e poi all'occorrenza solo all'occorrenza solo se vuoi solo se ti serve se fai parte di quelle persone che lavorano in un certo modo o che per sfizio insomma vogliono poter creare contenuti con lo smartphone in un certo modo ti porti una lente che è un ingombro comunque imparagonabile rispetto al portarsi tutta la macchina la mirrorless col kit che poi vuol dire anche batterie che poi vuol dire anche tutta una serie di cose un ingombro minimo che però ti alza tanto tanto il livello quindi ha molto molto senso specialmente se un domani e io vorrei questo e spero succeda questo e adesso vi spiego anche perché i brand stessi show me samsung apple eccetera sviluppassero delle ottiche proprietarie con l'attacco proprietario perché solo loro lavorandoci in prima persona possono avere quella cura al rapporto ingombro prestazioni che è fondamentale per far sì che lo smartphone mantenga la propria dimensione perché secondo me il discorso è un po' questo la smartphone photography oggi ha una propria dimensione molto affascinante che nasce proprio da dovuta a dei limiti e dei pregi quindi si differenzia dal mondo classico dell'immagine della creazione dei contenuti al di là del tipo di lavoro che vai a fare se tu puoi fare noi giriamo il cortometraggio anche ad alto budget con lo smartphone facciamo lo shooting fotografico poi lo facciamo con le cineprese o con le macchine insomma il lavoro è quello che ti devi portare a casa devi giustificare un lavoro commissionato di un certo tipo e quindi ti approcci in quel modo lì ma cambia la dimensione cioè tu sai che con lo smartphone oggi hai dei pro e dei contro e quindi ti approcci in un certo modo alla creazione del contenuto nel momento in cui questa cosa si appiattisce probabilmente, purtroppo, forse andrà così ovvero il sistema smartphone diventa identico al sistema mirrorless in tutto e per tutto con limiti tecnici differenti che via via si appiattiranno perde un po' quella dimensione di smartphone photography e diventa semplicemente fotografia e videomaking in termini più generali ora nel futuro è probabile che io vedo questo e lo vedo con dispiacere tutta quella fascia bassa, medio-bassa e medio-alta anche di macchine che nel corso degli ultimi 5, 6, 7, 8 anni hanno via via rivoluzionato il mondo del videomaking quindi tutto quel mondo fatto di mirrorless oggi super utilizzate per la maggior parte dei contenuti dei lavori che non necessitano di un livello ancora più alto e che si sta un po' appiattendo effettivamente sta un po' esaurendo l'effetto evoluzione che è stato molto invece ricco fino ad ora verrà sostituito dal mondo degli smartphone questo nell'arco secondo me di 4-5 anni potrebbe succedere perché se iniziano a montarmi un sensore molto buono sullo smartphone su cui io all'occorrenza posso mantenere la natura di smartphone perché ho anche un sensore tuttofare classico con cui posso continuare a lavorare come si lavora oggi ma all'occorrenza posso andare a metterci le ottiche che voglio io bene o male sì, c'è un'experience poi fatta noi lo sappiamo molto bene fatta proprio di esperienza d'uso fisica nell'utilizzare il mezzo che è diversa perché questo è un blocco di vetro rettangolare un corpo macchina ti restituisce tutt'altra esperienza ma di base questa cosa non sarà sufficiente secondo me a fermare questa evoluzione e questa sostituzione che mano a mano avverrà e lo dico con dispiacere perché a me oggi piace che ci sia una grossa differenzazione tra quando andiamo a fare un lavoro con smartphone e quando andiamo a fare un lavoro con le macchine da presa anche se quel lavoro è il cortometraggio da stesso budget a entrambe le parti per intenderci quindi tutta la lavorazione è la stessa ma il pensiero che c'è dietro per arrivare al risultato è molto diverso perché ti devi adattare tanto al mezzo nel bene e nel male male io ho dei limiti tecnici bene tutta una serie di cose che insomma nel corso di questi anni sul mio canale io ho scelto di dedicare tutti i contenuti solo al mondo della smartphone fotografia perché mi appassiona molto proprio questa cosa qui nel momento in cui viene meno e portarvi i lavori fatti con smartphone bene o male l'equivalente del portarvi i lavori fatti con la cinepresa amo, esageriamo mi perde un po' di entusiasmo quindi io vedo questa cosa qui un po' un appiattimento in termini di mezzi tecnici rimarrà il mondo super premium della fotografia e del cinema ovviamente tutto ciò che ne comporta diciamo da tanto dal livello più basso da Blackmagic in su arrivando a Red, a Darry e tutto quel mondo fatto di cineprese ottiche che fa parte di un'altra dimensione in maniera diametralmente opposta molto molto particolare e distaccata da tutto ciò che è il filmmaking e il videomaking più consumer diciamo quella rimarrà così come rimarrà l'equivalente in termini di fotografia ma tutta questa fascia medio-bassa medio-medio-alta potrebbe essere eliminata da questa linea che i brand di smartphone sicuramente seguiranno ma mi ha sparato alto ripeto ma che altro aspettarsi e quindi niente un po' di emozioni contrastanti su questa cosa ovviamente sbavo all'idea di poterne averne una e di poter affrontare delle situazioni con questo setup sia proprio per capire com'è l'experience in termini di ergonomia spero di aver risposto ma più che altro scatenato magari qualche linea di pensiero che mi potete scrivere nei commenti commentate mettete like al canale se vi va per sostenermi scusate ancora se non vi ho risposto sui target di instagram ma fatemi sapere magari ci organizziamo una diretta in cui possiamo chiacchierare di questa cosa qui e noi ci vediamo al prossimo video